Vi ricordate l'epoca delle polveri sottili e delle città altoatesine a rischio stop del traffico per via delle PM10? È solo un ricordo. Si pensi che nell'ultimo mese si sono registrati sforamenti delle polveri sottili solo il primo gennaio presso la centralina di Casanova e risulta tutto sommato poco comprensibile, posto che si trattava di un festivo e con traffico piuttosto limitato. Ciò che preoccupa invece è il biossido di azoto la cui fonte di produzione è soprattutto la A22 e il traffico di transito e per questo in ossequio anche alle normative europee la provincia è chiamata a fare qualcosa e qualcosa in questo caso significa ridurre lo smog sull'autostrada del Brennero in particolare all'altezza dei centri abitati. L'Austria ci ha già pensato varando un limite da introdurre nel caso in cui vengano superate le soglie relative al biossido di azoto in quel caso non si potrà viaggiare a una velocità superiore ai 100 km all'ora. In Alto Adige il limite potrebbe essere abbassato a nord di Bolzano dagli attuali 110 a 90 km all'ora e si prevede di farlo valere nel caso di superamenti delle soglie del biossido di azoto sui tratti di A22 compresi tra Varna e Bressanone Sud e tra i due caselli di Bolzano. Tra Egna e Salorno invece il limite verrebbe abbassato dagli attuali 130 a 100 km all'ora. Per dare il via libera all'operazione serve l'ok dell'ANAS che a quanto pare tarda ad arrivare.